Buonasera a tutti e benvenuti. Parliamo dell'incidente ferroviario avvenuto la settimana scorsa e ancora ovviamente in fase di indagini e di polemiche e di tutto il resto. Ne parliamo perché è un fatto di rilevanza nazionale ovviamente, è un fatto di rilevanza locale perché ricordiamoci tutti si trattava di un treno delle 7 del mattino se non sbaglio di Pendolari diretto da Cremona a Milano, deragliato poi all'altezza di Pioltello e quindi alle porte sostanzialmente di Milano con cause ovviamente tutte da scoprire e da chiarire ma incidente stradale gravissimo che ha provocato la morte di tre donne, di tre persone, ci sono decine di feriti ancora da curare, ancora da salvare tra virgolette anche perché tra questi feriti ve ne sono alcuni assolutamente gravi. È difficile fare tanti ragionamenti anche perché diciamo che siamo rimasti tutti sbalorditi dall'evento e diciamo che banalmente, brutalmente, cinicamente se avessimo sentito parlare di un treno in uno sperduto paese del sud nella Basilicata profonda o nella Calabria, quei trenini in situazioni un po' di disagio, di degrado e quanto altro deragliato laggiù avremmo pensato ai soliti disservizi, all'incuria, a problematiche di arretratezza tecnologica magari avremmo detto ma sì, là nel profondo sud, nei paesini sperduti, nelle rotaie vecchie della zona, insomma poteva anche capitare questo e bisogna cercare di capire le cause eccetera eccetera. In realtà tutto questo è capitato a Milano, è capitato a Milano, è capitato in uno snodo ferroviario assolutamente importante, è capitato su una linea che tutti i giorni porta migliaia di persone, dico di lavoratori in questo caso che si alzano al mattino per andare a Milano, per andare a lavorare eccetera eccetera ed è inspiegabile ecco tanto quello del trenino ma inspiegabile e lascia più sconvolti quello invece che stiamo commentando accaduto a Milano. Ora si fanno tanti ragionamenti per che sono tre i vagoni al centro di questo convoglio che sarebbero deragliati, avrebbero perso il controllo, sarebbero fuoriusciti dalle rotaie e corsi a tutta velocità per circa due chilometri sino a sbattere contro dei pali in cemento della linea elettrica. Si cerca di capire, si cerca di fare luce. La società RFI se non sbaglio che si occupa di tutto questo e comunque tutti gli enti preposti stanno indagando, l'area è stata sequestrata, le indagini sono in corso da parte della magistratura, c'è un evento tutto da capire perché pare che alcuni operai sarebbero stati trovati qualche giorno dopo all'interno dell'area sequestrata e questi avrebbero detto ma non avevamo visto, non ci eravamo accorti di aver superato un limite invalicabile, contrassegnato magari da dei sigilli, un divieto di accesso e in quest'area sarebbero stati sorpresi a fare cosa? A verificare lo stato delle rotaie, a verificare che cosa? Non si è capito bene, sono stati credo tutti poi accompagnati in questura e se non sbaglio denunciati per violazione di sigilli e da qui tutta una serie di polemiche ma perché erano lì e da qui il discorso del rattoppo, le fotografie hanno fatto il giro del mondo, pezzo di legno a supporto della rotaia, ma perché il pezzo di legno? Ma non è una cosa strana, non ci sono i bulloni e per altri assolutamente normale il rattoppo, assolutamente normale in Italia alle porte di Milano, treno ad alta densità lavorativa con il rattoppo, con la siccella di legno? È normale? È pericoloso? Non è pericoloso? Francamente diventa veramente difficile, così come non entro nel merito, ribadisco delle indagini, degli avvisi di garanzia magari che verranno spiccati per responsabili legali, amministrativi, tecnici di varie società preposte magari al controllo delle ferrovie, alla valutazione della congruità della linea, dei binari, dei vagoni, dei macchinari, va bene tutto, faremo tutto, ragioneremo su tutto. Fatto invece impossibile da verificarsi, fatto gravissimo, fatto censurabile e lì nessuno ce lo potrà mai riportare indietro il ragionamento, è che se io la mattina prendo un treno alle 7, vado a Milano, a Bergamo, a Caltanissetta, dovunque in Italia, io ho il diritto e chi mi trasporta ha il dovere di farmi arrivare sul luogo di lavoro e di riportarmi a casa assolutamente in colume, questo è il fatto. Tutti il resto non conta niente, si vedrà, sarà un rimpallo, sarà un giro di responsabilità, non risolveremo magari nulla, questo è il punto nodale, questa è la vergogna, io ho il diritto, salgo su un mezzo pubblico, chi guida, chi si occupa del mezzo pubblico ha il dovere di farmi arrivare sano e salvo, all'andata e al ritorno e questo ancora una volta non è avvenuto, grazie.